Estra ti è vicina e ti informa che puoi risparmiare con i bonus energia. I bonus energia sono una riduzione delle bollette del metano e dell'energia elettrica per famiglie a basso reddito, famiglie numerose e malati gravi bisognosi di macchinari salvavita. La domanda va presentata al proprio comune, oppure ai CAF, compilando i moduli che sono scaricabili dai siti dei comuni, dell'Anci, Anci.it e dell'autorità dell'energia, Arera.it. Estra, l'energia che ti è accanto. Il gruppo Estra, in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile, innovazione, energia pulita, salute, posti dalle Nazioni Unite, è quanto si ricava dalla lettura del bilancio di sostenibilità 2019 presentato da Estra. Il gruppo ha generato nel 2019 un valore economico di un miliardo, che ha quasi per intero 938 distribuito a soci, istituzioni, comunità, fornitori, clienti. Valore aggiunto, valore economico e valore ambientale, che contribuiscono a far crescere i territori nei quali Estra opera. Un dividendo di 7 milioni di euro, che Estra distribuirà agli azionisti. L'Assemblea dei soci, Estra Prato, con Gassarezzo, Intesa Siena, Viva Servizio Ancona, ha approvato il bilancio d'esercizio 2019 della Multi Utility Energetica, che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di quasi 10 milioni di euro. Una rete di 6.984 chilometri, cresciuta nel 2019 del 9,5% rispetto all'anno prima, che si estende per buona parte del centro Italia, ma che ha le sue propaggini anche nel sud Italia, è la lunghezza delle condutture attraverso cui passa il gas metano di Estra, collegata a 516.000 contatori o punti di riconsegna, più 15,14%, diffusi in Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria. Estra gestisce infatti la rete e gli impianti gas nelle province di Ancona, Bari, Campobasso, Firenze, Foggia, Grosseto, Isernia, L'Aquila, Lucca, Perugia, Pistoia, Prato, Rieti, Siena, Teramo. A questi numeri vanno aggiunti i 144 chilometri della rete di GPL, cui sono collegati 5.364 punti di riconsegna e i 790 chilometri di cavo dell'infrastruttura in fibra ottica. Estra è un gruppo sempre più green. Nel 2018, come si ricava dal bilancio di sostenibilità 2019, il gruppo ha sensibilmente ridotto le sue emissioni di anidride carbonica di oltre 12.000 tonnellate, con una crescita in termini di minore diffusione del 3,3%. Il risultato è stato ottenuto dal consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili delle sedi, dalla produzione di energia elettrica per il 97,4% da fotovoltaico, eolico e biomasse, con 24 milioni di kilowattora di energia termica prodotti. Estra manda il 92% dei rifiuti che produce, corrispondenti a 746.000 chili, al recupero e si contraddistingue anche sulla mobilità pulita, con l'installazione di 13 centraline in Toscana e Marche per la ricarica elettrica dei veicoli. Nel 2019, il gruppo ha piantato 389 alberi, compensando l'equivalente di più di 3 milioni di pagine di carta consumate. Estra è un gruppo sempre più innovativo anche nei rapporti con i clienti, che in 233.000 sono iscritti all'area web loro riservata sul sito del gruppo, che ha fatto registrare più di 1.283.000 accessi. Ma sono in tanti i quasi 30.000 ad aver scaricato la app di Estra, che comunica anche attraverso chat, messaggi web, whatsapp, facebook. Estra ha chiuso il 2019 con poco più di 800.000 clienti così suddivisi, più di 635.000 per il gas, quasi 165.000 per l'energia elettrica. Sono 84 gli store di Estra che operano nei territori serviti dalla multiutilitri, 53 nel centro Italia, 28 nel sud Italia e 3 nelle isole, che hanno servito quasi 261.000 clienti. Sono stati invece 615.000 circa i clienti serviti dal call center di Estra, con tempi di attesa inferiori o di poco superiori al minuto. Estra ti è vicina e ti informa che puoi risparmiare con i bonus energia. I bonus energia sono una riduzione delle bollette del metano e dell'energia elettrica per famiglie a basso reddito, famiglie numerose e malati gravi bisognosi di macchinari salvavita. La domanda va presentata al proprio comune, oppure ai CAF, compilando i moduli che sono scaricabili dai siti dei comuni, dell'Anci, Anci.it e dell'autorità dell'energia, Arera.it. Estra, l'energia che ti è accanto. Grazie per la visione.